Ciao a tutti, io sono Nadia e nella vita mi occupo di comunicazione ufficio stile per un'azienda di finiture galvaniche, ma nel tempo libero scrivo di design interni per dei magazine online e nel mio blog. Oggi vi parlo appunto di piccoli spazi di felicità, che è il modo in cui creare il vostro spazio di lavoro, uno spazio di lavoro in cui vi sentite bene, vi sentite bene perché ve lo siete cucito addosso, avete ascoltato le vostre esigenze, i vostri bisogni e siete riusciti a creare questo spazio in cui siete creativi, in cui siete produttivi e in cui se ricevete anche i clienti, anche i vostri clienti stanno bene e hanno voglia di venire da voi e anche voi alla mattina vi alzate felici di andare a lavorare perché lì ci state bene. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno risposto al piccolo sondaggio che ho postato su Facebook qualche settimana fa e che mi ha in effetti aiutato ad inquadrare un po' la situazione. La maggior parte di voi ha uno studio in casa, riesce ad avere uno spazio dedicato e questo è bellissimo. Molti altri effettivamente lavorano in casa un po' dove capita e il resto ha spazi condivisi o altri spazi fuori casa. Quello che mi ha fatto sorridere è che quel numero di 46 più 349 persone che lavorano in casa un po' dove capita, magari lo spazio dove lavorare ce l'hanno, però ogni tanto piace anche potersi rilassare e lavorare dove va. Questa frase mi piaceva per introdurre l'argomento. Tu sei un prodotto del tuo ambiente, quindi scegli l'ambiente che ti permetta di svilupparti al meglio per raggiungere il tuo obiettivo. Ciò che ti circonda ti conduce verso il successo o te ne allontana? Infatti, prima di iniziare a progettare il vostro spazio, fatevi delle domande. Ogni buon progetto comincia con le giuste domande. Cosa mi serve per lavorare? Quali sono gli strumenti che devo assolutamente avere nel mio spazio? E questo stabilirà anche la dimensione e la quantità di spazio di cui ho bisogno per lavorare. Come voglio sentirmi nel mio spazio di lavoro? Ho bisogno di essere creativo, concentrato, produttivo? Provate a pensare quali sono le sensazioni che dovete provare. E di conseguenza, cosa stimola la mia creatività, la produttività, la concentrazione? Ho bisogno di spazio bianco e vuoto o ho bisogno di immagini che siano capaci di stimolare, di farmi immaginare? Quali spazi mi fanno stare bene? Mi sento bene nel verde o mi sento bene nel caos della città? E soprattutto cosa voglio ottenere dal luogo in cui lavoro? Ci sono solo io? Devo scrivere? Accolgo i clienti? È uno spazio condiviso? Ho bisogno di poterlo liberare perché deve poter diventare qualcosa di polifunzionale? Date queste risposte, possiamo cominciare. Tenetele sempre in mente nei vari passaggi progettuali. Ho individuato, diciamo, sette passi per potervi creare uno spazio idoneo. I primi sono i fondamentali. In qualsiasi posto voi lavoriate, sia vostro escludivo o sia condiviso, i primi ci devono essere per poter stare bene e non soffrire mentre lavorate. I secondi tre sono quelli che vi danno più libertà. Se avete uno spazio tutto vostro, avete più strumenti per giocare e per stare bene. E il settimo è la creatività che deve effettivamente sorvolare su tutti questi punti, ma deve entrare in gioco in modo più acceso se avete problemi di spazio, dovete inventarvi qualcosa. Il primo, la giusta luce. È un tema a cui io sono molto sensibile perché sono dipendente, ho sempre lavorato in aziende venete e le aziende venete sono in zone industriali. Quindi o avevo le finestre e non potevo aprirle, o se le potevo aprire erano una bellissima vista parcheggio, grigia e triste, oppure erano oscurate, quindi luce naturale praticamente non entrava. La giusta luce è il giusto mix di luce naturale e di luce artificiale, in modo che vi permetta di vedere bene, non dia abbagliamenti, ma non ci siano nemmeno zone oscure. Quindi deve poter entrare della luce naturale, non vi devo dire io che la luce naturale ha effetti benefici anche sul nostro umore, sul nostro corpo, sul nostro fisico. Se dovete disporre una scrivania è meglio disporla perpendicolare alla fonte di luce naturale. In questo modo la vostra scrivania sarà illuminata, non vi farete ombra, non avrete abbagliamento diretto o indiretto. E meglio se la fonte di luce proviene da sinistra, se scrivete con la destra, e da destra se siete mancini, perché così non vi fate ombra mentre lavorate. È molto importante anche la luce diffusa, dovete fare attenzione che appunto non ci siano zone d'ombra all'interno dello spazio in cui siete, e che non vi abbagli, non siano quelle lampade magari bellissime, ma che vi arrivano direte negli occhi. Se potete scegliete una luce LED, ormai ci sono quasi solo luci LED, come temperatura di colore, che trovate sempre indicate nelle lampadine a LED, scegliete sempre una luce calda o al limite neutra, perché vi permette di avere un aspetto più sano nelle persone che vivono, che sono lì all'interno. Ok, anche la mia. Potete arrivare al limite a una luce neutra, quindi potete vedere al massimo scritto sulla vostra lampadina 4.000 gradi Kelvin. Per darvi un'unità di misura, il fuoco ha una temperatura di colore di 2.000 gradi Kelvin. Le luci incandescenza, che ormai non esistono più, hanno 2.700 gradi Kelvin. Se voi state tra i 3.000 e i 4.000, stiamo bene. Più fredda, come dice Fabrizio, esatto, anche nei negozi in genere si sceglie quella, diventano le luci veramente da ospedale, che insomma non danno proprio un bellissimo aspetto. Poi valutate se avete bisogno di un'illuminazione puntuale e funzionale sulla vostra postazione, a seconda del tipo di lavoro che fate, o se vi piace lavorare magari al crepuscolo, dove avete comunque bisogno di eliminare ombre e di illuminare di più il vostro spazio. Qui vi ho messo un semplice schema per farvi capire quali sono i problemi che può dare la luce. Un abbagliamento diretto o un abbagliamento indiretto delle superfici riflettenti che avete all'interno del vostro spazio. Attenzione agli arredi. Le laccature bianche, candide, sono bellissime. I piani in vetro sono bellissimi. Attenzione poi a come sono disposte rispetto alle luci, perché infastidiscono, affaticano la vista e insomma potrebbero darvi qualche problemino. Secondo punto per me è importantissimo, lo dico sempre. Se avete poco budget, utilizzatelo per una sedia e una scrivania che vi permettono una postura ergonomica. Se ne avete pochissimo, investitelo in una sedia. Chi di voi lavora o ha lavorato come dipendente avrà sicuramente ricevuto quel bellissimo manuale della sicurezza del videoterminalista. E lì c'è proprio questa immagine che nell'antichità che può avere comunque vi dà un'indicazione di una postura che vi permette di non affaticarvi troppo quando siete alla postazione, specie se ci passate molto tempo. Come vedete, il femore e l'avambraccio in posizione orizzontale rispetto al terreno, piedi ben appoggiati per terra se non ci arrivate con una pedana sotto. Lo sguardo, con il capo in una posizione naturale sulla schiena, quando guarda dritto dovrebbe superare la linea del vostro computer. Perché sempre secondo questa normativa ogni 20 minuti avete bisogno, tutti abbiamo bisogno di riposare lo sguardo per almeno un paio di minuti guardando oltre e guardando lontano. Qui vi ho messo un paio di, un campione di sedie tipiche operative d'ufficio. C'è anche tutta la linea delle sedie ergonomiche, balance, le varier, cioè l'ex-stock, che o log, capisco che io sposo, io adoro queste sedie, anche se insomma sono parecchio costose. Quello che posso consigliarvi è provatele, fatevi un giro in un negozio, state seduti 5 minuti, è vero che nemmeno quando provate un materasso sapete se è quello adatto a voi, però insomma un'idea ve la potete fare. Anche il piano di lavoro ha le sue regole, diciamo ergonomiche, dovrebbe essere alto 72 centimetri e profondo almeno 80 per poter tenere lo schermo del computer a 50 centimetri dal vostro sguardo. In realtà va bene un tavolo, va bene un tavolo della cucina, va bene un piano che vi piace, il piano con i cavalletti. Questo a patto che la vostra sia una sedia operativa da ufficio che quindi potete regolare in altezza e potete posizionarvi al meglio. Qui vi ho messo un esempio, questo se potete, se potete, uno standing desk è una buona soluzione perché vi permette di cambiare postura e l'altezza della scrivania, di lavorare in piedi cambiando posizione durante il giorno. Questo tra l'altro l'ho vista negli uffici di Nicole ed è bellissima, ce ne sono anche di più economiche, basta andare all'IKEA, cercate la soluzione in cui stare meglio ma magari evitate appunto il tavolo della cucina con la sedia della cucina. Qui vedete appunto qualche esempio, non serve appunto chissà che scrivania ma due cavalletti, un piano ben disposti. Terzo punto, l'ordine, che non è l'ordine che vi diceva di fare la mamma in cameretta vostra, ma è ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. Ricordando le domande all'inizio in cui avete individuato cosa vi serve essenzialmente per fare il vostro lavoro, queste cose vanno collocate all'interno dello spazio. Meglio se il risultato che raggiungete è ordinato, pulito ed esteticamente gradevole. Ci sono un sacco di bellissime soluzioni dai raccoglitori tutti uguali con delle etichette, cesti per raccogliere attrezzature, fogli di carta, oppure scaffalature con dei box, con delle scatole del colore che può seguire la vostra brand image, oppure tutti bianchi con delle etichette. Le soluzioni sono tantissime, vedete questo spazio di lavoro con le scatole tutte uguali, etichettate, vi aiuta anche a trovare più velocemente le vostre cose. E in più, se questo spazio è condiviso, se voi avete una scatola per riporre tutti i vostri strumenti, potete anche spostarvi agevolmente, allestire il vostro posto di lavoro e riporre tutto velocemente se avete una visita, se avete fretta. Sempre qualche esempio. E poi, per i più creativi, chi ha strumenti operativi che ha bisogno di avere sotto mano, ci sono anche queste bellissime bacche e keyboard che fanno molto officina meccanica, ma che vi permettono in uno spazio libero di avere tutto molto comodo per lavorare e se avete un po' di fantasia anche di comporvi delle belle immagini, un bel aspetto con i vostri stessi attrezzi. Chi invece ha una stanza tutta per sé, un ufficio tutto per sé, dicevo, ha più strumenti con cui giocare e divertirsi. Il primo è il colore. E ormai lo sappiamo già, il colore comunica e trasmette emozioni. In due edizioni fa Anna Turchato ci ha parlato di questo tema, di come ci sia una psicologia dei colori. Io sorvolo, ma se vi interessa vi lascio il link all'ospizio di Anna Turchato che è bellissimo. Lei lo applica alla propria immagine personale e al modo di presentarsi, di vestirsi, ma almeno per la cultura occidentale i colori sono un linguaggio universale. Come usarlo? In questa slide nella prima versione c'era un immenso occhio perché quello che mi è venuto in mente è ocio che in Veneto vuol dire occhio, attenzione a come usate i colori. I colori hanno delle regole. Abbinare i colori non si può fare solo come ci piace, ci sono delle regole. In internet trovate un sacco di strumenti come questa banale ruota dei colori che vi fa vedere come scegliere il giusto abbinamento, dei colori analoghi, i colori complementari, i complementari divergenti, le triadi e in più ci sono molti scritti sulla psicologia dei colori e su cosa e come comunicano i colori. Quindi cercate i giusti accostamenti, seguite il vostro gusto sicuramente e ripensate sempre alle risposte che avete dato all'inizio. Cosa volete comunicare? cosa farete all'interno di quello spazio? Per darvi due indicazioni di massima, colori caldi, degli arancioni e dei gialli stimolano l'energia, l'ottimismo, la creatività e possono essere adatti a una zona operativa dove dovete creare i colori freddi dei verdi e degli azzurri magari sono più adatti per rilassarvi o in zone riunioni dove ci deve essere interazione ottimale tra le persone. Qualcosa di più operativo? costruitevi la vostra palette una palette che è fatta non solo dei colori che mettete sulle pareti ma di tutto ciò che poi andate a riporre all'interno il rivestimento della sedia se mettete dei cuscini dei divani delle tende gli accessori che scegliete createvi una palette e nel dubbio state sul tono su tono che non sbagliate quasi mai i colori accesi sì, ok magari limitatevi a una o due pareti attenzione poi giocate con il resto delle cose che andate a inserire all'interno e quinto punto è un tema a me molto caro infatti casa mia sta diventando una serra usate osate con un po' di verde con delle piante le piante risolvono molti problemi risolvono problemi di arredo se avete angoli non risolti risolvono problemi di umore perché vedere del verde comunque c'era serena e soprattutto risolvono problemi di pulizia dell'aria quello che vedete è un'infografica tratta da uno studio della NASA della fine degli anni ottanta che ha individuato le 18 piante da interno con più alto potere pulente dell'aria all'interno degli ambienti da sostanze nocive e anche cancerogene che sono presenti in quasi tutti i nostri ambienti e sto parlando di formaldeide benzene ammoniaca tutte queste sostanze che sono rilasciate dagli arredi sono rilasciate dalle vernici dai prodotti che utilizziamo per pulire e che in più o meno alta quantità sono presenti tutti i nostri ambienti in questo magari lì il problema era minore ma aiutano anche contro l'elettromagnetismo soprattutto piante come l'aloe non ditemi che avete il pollice nero perché tutte queste 18 piante sono molto molto semplici da coltivare hanno bisogno di un po' di luce che ci deve essere all'interno del vostro spazio e di un po' di acqua ma si tratta di una o due volte al mese quindi non trovate la scusa del pollice nero e guardate che belli effetti si possono ottenere sarà un bello spazio in cui restare questo la disposizione quindi come disponete le cose all'interno del vostro spazio a volte è proprio la stanza a chiamare come mettere i mobili non avete modo di muovervi più di tanto ma se potete essere più liberi ad esempio c'è una bellissima disciplina che si chiama feng shui che non è magia non è esoterismo ma è una disciplina orientale che aiuta a sistemare gli spazi in modo da renderli armonici armonizzarli a seconda delle persone in cui le vive che dà delle indicazioni di massima una di queste indicazioni è proprio sulla disposizione della scrivania rispetto alle aperture dello spazio come vedete i tre superiori sono delle posizioni considerate di comando la scrivania è a una certa distanza dall'ingresso controlla bene l'ingresso e soprattutto ha le spalle coperte dietro di sé ha un muro in questo modo noi umani che siamo comunque mammiferi cacciatori inconsciamente ci sentiamo protetti e potremmo mentre stiamo lavorando pensare solo al nostro lavoro perché la nostra mente inconscia non pensa di essere in pericolo vede chiaramente da dove possono arrivare i pericoli e in più se poi vogliamo proprio scendere più addentro alla disciplina del feng shui in spazi così l'energia è libera di entrare fluire toccare tutti i punti della stanza e riuscire dalla finestra portando via le cose negative il feng shui può aiutare anche a disporre ciò che vi serve sopra la scrivania sempre nell'ottica di attirare fortuna prosperità di avere una buona energia all'interno dello spazio quello che vedete sulla destra è uno strumento tipico utilizzato per orientare gli oggetti e divide lo spazio in nove aree che corrispondono esattamente alle aree alle sfere della vita di una persona se volete trovare un modo per disporre le cose sulla scrivania e tenerla in ordine potete seguirlo ad esempio vedete che il computer è nell'area della carriera la pianta nell'area della prosperità gli strumenti creativi il notice dove prendere appunti è nell'area della creatività dei figli il telefono nell'area delle relazioni vi dà un orientamento in più una scrivania ordinata sempre a livello inconscio uno poi può crederci o no in qualche modo lascia che pensiamo di avere spazio per accogliere nuovi lavori spazio per accogliere cose nuove essere aperti alle novità mentre magari una scrivania disordinata e piena ci fa pensare oh mamma non ce la farò mai a fare tutto come posso accogliere cose nuove se già qui non riesco a muovermi per cui ci si può credere oppure no mantenere in ordine serve a tutti è uno strumento in più magari funziona e vi riempite di contratti sei te questi sono i sei punti per chi comunque riesce un po' a orientarsi bene all'interno del proprio spazio poi c'è chi lavora in casa dove capita ed è comunque una scelta consapevole come abbiamo visto che ogni tanto a qualcuno piace lavorare in casa questa foto me l'ha postata su Irene Manzone che anche lei dice io ogni tanto lavoro a letto e io non è che posso tanto star qui a dirvi che è sbagliato o che bisogna dividere gli spazi di lavoro eccetera perché mio marito mi sgama così praticamente ogni sera vi chiedo solo una cosa attenzione ci sono i supporti adeguati insomma non costano tantissimo se lavorate spesso dal divano a letto almeno proteggete un po' la schiena se invece lavorate in casa dove vi capita ma è una necessità vorreste uno spazio tutto per voi a volte le dimensioni non contano la scusa di casa mia è piccola non sempre è vera usate la creatività e qui vi faccio vedere giusto per stimolarvi cosa vuol dire usare la creatività avete un sottoscala che resta vuoto che non sapete come utilizzare magari le giuste mensole si crea un ripiano si cerca di illuminare di dividere il resto della stanza riuscite in qualche modo di isolarvi e ricavarvi il vostro spazio il mobile centrale è un semplicissimo mobile Ikea che alla fine non occupa molto spazio vi permette di chiudere il ripiano quando avete finito e di lasciare alla vista tutto in ordine più sulla sulla destra c'è sempre una specie di sottoscala con un semplice modulo con delle mensole e un ripiano che esce ci sono sistemi di arredo come questo sono molto nordici molto puliti come vedete ma sono sistemi componibili avete una piccola parete di risulta può essere un solo modulo con il suo ripiano ma ad esempio se avete solo una grande sala potete fare tutta la parete con questa serie di moduli molto belli molto puliti e una sezione dedicarla al vostro lavoro ci sono anche tutte queste scrivanie richiudibili per cui potete tirare fuori il vostro piano di lavoro tenere dentro l'essenziale e richiudere se invece non so cambiate casa sapete già di avere lo spazio molto stretto il vostro angolo può essere progettato a priori vedete lì c'è un'armadiatura a muro in cui si è ricavata un'anta che scende oppure una delle mensole si allarga un po' e diventa un ripiano all'occorrenza utilizzabile e ultime riflessioni il vostro spazio parla di voi e del vostro brand esattamente come lo fate voi come lo fa il vostro atteggiamento esattamente come lo fa il modo in cui vi vestite per cui ordine poche cose essenziali cercate di starci bene questo qui vi lascio una una stanza che è quella di Ilaria Chiaratti in arte Ida interior lifestyle se la conoscete qui individuate che c'è proprio lei lì dentro questa stanza riprende la paletta del suo brand è ordinato uno spazio accogliente c'è il verde c'è la luce c'è lo spazio per lavorare lo spazio per riposarsi questo in qualche modo lo potete fare anche voi perché lo spazio comunica proprio quello che voi siete arredare non significa fare scenografie non significa fare belle immagini per le riviste è piuttosto creare qualità di vita una bellezza che nutre l'anima in poche parole i vostri piccoli spazi di felicità grazie grazie